Salve gente, oggi vi porto questa classificata particolare giocata in una live di qualche giorno fa e vinta praticamente in tre, io, Mario e Mattia. Mi raccomando fatevi sapere se questo tipo di video vi può interessare giù nei commenti. Mi raccomando leggete la descrizione che ci sono molte informazioni utili. Noi ci becchiamo alla prossima, buona visione, abbiamo vinto in tre, fine. Due clan, vabbè, 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 vabbè. Ce le lasciamo, perché i clan alla fine sono relativi, oh, vabbè. Oddio. Abbandonata, appena bene. Bene, si parte profumatamente, le competitive. No, sta partita qua con Glass, anzi con Mario. Comunque, visto che è appena iniziata, in quattro ce la possiamo gestire, dai. A posto. Dalla cucina grande e Frost ha messo la trapola, quindi attenti. Ok. C'è un spocchio. Dove entriamo allora? Mu' arrivo. A parte che io sono già qui. Ma io c'ho un bug, raga, non posso... Non posso entrare, perché? Che punti non puoi entrare? Scendi giù. Non... Spazio, non mi funziona. Ah, uno è uscito qui, eh. Attenzione. C'è chi guarda, vedi che sono appeso, ma guarda Mario, guarda qui a me. Sì, ti vedo. No, non posso... Eh, scendi e rirampinati. Vediamo. Luce spesa. No, stesso discorso, vabbè, capito, vengo sulle scale. Boh, vabbè. Qualcuno sarà dietro lì, sicuro. Non entra che ci sarà sicuramente trappi di posto. Ah, qui non hanno rinforzato, raga, io entro di qua. Termite, termite, come here. Termite, termite, come here. Termite, 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 where I am, toucher, termite, there. Niente, non gli fai un... Ok. Uno in l'infondo, raga, eh. Termite. Oh. Oh. Vaffanculo, eh. Uno è qua sulle scale. Cosa è che mi blocca, qua? Non c'è più. C'è Castle qua. Dove? Sono morto, cazzo, uno è in cucina. No, quel termite lì, gli ho detto di apri il line, entra da casa, ma non ho parole. Ma sta contestando, almeno? Sì. Ma dopo di che lui è dentro, ma ti entra da cucina. Entra da cucina. Che ti ho aperto tutto. Mancano 15 secondi. E' lì. Eccola. Ottenete il contenitore. Buonissimo. Buono, cazzo. E' Mario va a comandare, ragazzi. Però mi son fatto l'Aista, ragazzi. Perché? Eh, perché ne ho 5. Sì. Ma perché? Che domande fai? Non chiude, non chiude, non chiude, non chiude. Sono un co***o. Fuori appesi, svengo da sopra. Office, guys. Stairs, office. Scali di ufficio, vedrai. Porca puttana, Mario. Ho rosa solto. Mario. È giusto, va a quello. Non mi avete preso la gamba. No, 79. Non è posto. Non vorrei che ci avessero più use, eh? Sì, ci hanno più use. Setto, fatto. Poi a noi ci è rimasto quello frettino, con noi. Via da... Vaglia. Pazzo. What the... Dov'è? Taccere da fuori cucina. Dio. Cinque contro quattro su. Ma che... Beh, 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 a posto. No, com'è che non è morto? L'avete visto, no? Sì, ho visto che hai sparato 380 colpi. Vabbè, c'è già il mira aperto. No, le ha messi e le ha aperti entrambi. Dove la metto? La Claymore? Qua, il bagno. Uno è subito qua. Se mi copri, ti metti in mezzo alla finestra, passo e buco dall'altra parte. Vai, passa, passa. Grazie. Jäger è lì vicino al bagno. Potrebbe bucare anche uno di... Tu madre, t'ho sentito. Visto, raga, che vuol dire avere cuffie? Jäger è ancora qui. Uno. No, f***, il bar mi sta introdando. Qui. Ehm, ciao. Vabbè, pure il scemo quello lì, eh. Cazzo. One is on the stairs. Camera è morta. Ma co... Eh, cazzo, c'era quell'altro, non ho visto. Jäger ci ha poco capito. Cosa pure. Jäger ci ha pochissima vita, santo. Ma dov'è? Era a sinistra. È con lì. Mamma mia. Bella. Smirata, ragazzi. Non ti ha avuto un po' culo, eh. È un sacco l'uscita. Eh, ma ho capito perché ho fatto schifo. C'è 421 di pink. Non so perché. Ah. Bene. Meno ma non t'ha visto. Questi in difesa fanno cacare. Stanno andando avanti assisti, vedrà. Ico ha individuato il contenitore di biorischio. Imbuscata pronta. Stai dalla larga. No, sto largando perché cazzo. C'è 421 di pink, porca puttante. Quarta è fatta. Ti rimani in questa zona e il nemico ti scoprirà. Il nemico ti scoprirà e rimani in questa zona. Oh, che shot, raga. Da dove entrano? Da qui. Accanto a finestra d'ambulano. Dove sono io, mio? Tutti? Qua di sì. Oh, grazie, non c'è più. Oh, a terra, che si legge qua fuori. Si legge a terra, con fuori dove sono io qua. Sì. Sì, da giacca. C'è giacca, c'è giacca. Lì, mi sta sta curando? Eh sì, lo sta curando. Però mi sa che ormai è andato. I jambers stanno funzionando, quindi... Il nemico ti scoprirà. Ma c'è che lo scoprirà. È morto, giacca. Non c'è più. L'ultimo nemico rimasto. Ti hanno visto. Tra il drone con l'altro è qui. Adesso. Camperate, campeonate. Che cretino! Che cosa fa? Perché fiozzarla? Ma che furbo, era aperta la cosa. Curbissimo questo, no? Finché questa partita non finisce, io sto zitto. Cioè nel senso, non sto zitto che non parlo. Sto zitto su un'altra cosa. Poi quando finisce, ve la dico. Io non so se ci sta andando di lusso. Se siamo forse, sono scassi. Sono bravissimi. Le ho le stesse finestre di mira. Le apre di nuovo. Io vado all'esterno ventilazione. Così poi metto la camory in quella Frost che l'ho sentita con le cuffie prima. Se no sto cazzo che stavo vivo. L'ammazzavo. Ma vedi che qualcuno ricasca un'altra volta sulla trappola di Frost? Sempre alla finestrina. Perché quelli suonano sono scemi. Probabile. Anzi quello, in questo caso siamo tre noi. Le scala non c'è un po' adesso. Strano. Se si leva questo capital io lo apro. Capital, go away. Go away capital. 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 Non capisci niente. Ma a posto. Ti devi spostare, devo aprir. Stavolta servo in te. Ragazzi avete dei bandit. Sparare qua dei bandit. Mira sono le stairs. Mira sono le stairs. Prendete che arrivo. Prendete la prenda di mira. Che shot ha fatto? Dove è mira? Ok lo vedo. Morta. C'è cosa, c'è cosa. Attento vai kill. Dove? È lì, è lì. Era qui. È andato qua, non so dove è andato. Aspetta. Aspetta, comprovo. Non è sulle scale. Ma a me mi sembra una partita degli imbecilli questa, raga. No, ma poi è scemo, lui qui che entra sempre. È dietro lo scudo, vero? Sì. Vabbè, non lo va al kill, mi sopprezzate via. Sì, dietro lo scudo, è sempre col posto lì. Qui? Dove l'ho ucciso io prima. No, la dietro, l'altra. Ah, no, era proprio sotto la finestra. Sotto la finestra, sotto la finestra, smock. Sotto la finestra, c'è un'altra. Sotto sta facendo il giro, sta facendo il giro. C'è una mia crema. Entro, entro. Entro, entro. Vedi? È il contenitore. Scemo. Ma raga, ma davvero abbiamo vinto in quattro contro sti stupidi? Che bello. Vabbè, raga. GG. GG per noi. Certo che quel capitale era scemo, ho tre round di cucina. Abbiamo vinto in tre, eh, raga, io ve lo dico, abbiamo vinto in tre. Ma tre round di cucina, tre round entrava dalla finestra che c'era sempre, però è proprio scemo, eh. Abbiamo vinto in tre. Fine. Grazie. Grazie. Grazie.